Verso la sentenza il processo d'appello Libro Nero, l'operazione della procura antimafia che ha colpito i capi e seconde linee della potente entrina Libri. Conclusi infatti gli interventi difensivi, il processo ritornerà nelle aule del Palazzo di Giustizia Piazza Castello il prossimo 6 marzo per eventuali repliche del sostituto procuratore generale Danilo Riva e le successive controrepliche del collegio difensivo. Sul banco degli imputati sei persone, Antonio Caridi, Giuseppe Laporta, Giuseppe Libri, Giampaolo Sarica, Giuseppe Serrano ed Antonio Zindato nei confronti delle quali la procura generale a conclusione della propria discussione ha chiesto la conferma delle decisioni. Nello specifico, tenuto conto della riduzione di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato, il verdetto di primo grado aveva ribadito in pieno l'impianto accusatorio. La pena maggiore, 18 anni di reclusione, è stata inflitta a Giampaolo Sarica che nella ricostruzione investigativa ha sostituito nel quartiere San Giorgio Extra il capo clan in galera al 41 bis a carico di Nino Caridi invece, 16 anni, ritenuto uno dei vertici della cosca in virtù della parentela del defunto boss Domenico Libri. Antonio Zindato, 14 anni, Giuseppe Libri, figlio della capo cosca, 12 anni, Giuseppe Serrano, 10 anni e 8 mesi, Giuseppe Laporta, 10 anni e 8 mesi. Il gruppo aveva disposto anche due soluzioni avvallando la richiesta in sede requisitori dell'ufficio della procura. Parti civili nel processo, città metropolitana, Ancere, Gio Calabria e FAI. Con l'operazione Libro Nero, la procura distettuale antimafia e squadra mobile della Questura hanno affermato l'esistenza di un patto di ferro tra Andangheta e alcuni esponenti della politica di raggio, dell'imprenditoria e delle categorie professionali. Con libri stingevano infatti i patti da rispettare i politici che poi avrebbero votato mentre gli appalti venivano assegnati agli imprenditori di riferimento.